Anna Bella la calda modella. Al moderno c'è, queste sono cosce serie, con la manonelli. E ai marzini? Al marzini, la suora strega prima di converte e poi di fa una. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie. Grazie. La signorina Verusca, mio braccio destro. Quella che ti fa le seghe. La signorina Marisa, mio braccio sinistro. Perché è Mancina? Ah, è Mancina. E sto scherzando. E sono scariche. Le uso solo, vero, in caso di bisogno e di aggressione notturna. Tante volte è qui, vero, qualche lumacone, non si sa mai. Papà! Papi, in questa house, sono di questi luoghi. Allora, papi. Ma il papi, vero, sta scherzando. C'era papi, esce il tutore notturno qua. Guarda che l'azzo, mi ha buttato le chiavi. E sta per sito, papi. Te li fa conoscere tutti, c'è il tutore notturno. Io sono Marcionelle, vero, posso rientrare quando voglio. Posso pure rientrare alle tre di notte. Ho più di lezzamani. Ho più di lezzamani, vero, posso rientrare quando voglio. Ho più di lezzamani, vero, insomma. Beh, bella notura. Vieni qua, io dormo. Ho più di buoni di alla sala. Ho più di zuvor. Justi 3 ore Canada. Ho più di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni rilasciato dal qui presente Emilio. Una delle esperienze più importanti della vita sicuramente è viaggiare, che non si può assolutamente paragonare a quella del trombare. Si può viaggiare una vita intera, ma non si può trombare una vita intera. Sì, ma va bene, va bene. Fina Sol. E Sol 2. Avete appena ascoltato l'importante dichiarazione di Emilio e devo precisare che è il responsabile della pesata che sta al Torrino, a Roma, che vi invito a senz'altro a visitare perché tra non molto organizzerà una serata catalana con cena e pallo flamenco. E tanto sesso. Un che sesso. Un che sesso. Sono diabolico nell'amplezza, sproporzionato per qualcosa che riguarda le dimensioni di stessa. Mi sa che sei cascato a piscello. Mi sa che sei cascato a piscello. Siccome lo siamo quarantenni, e li quarantenni tante volte gli vengono certi idee, volevamo diventare gay, perché io e provolone siamo delicati. A casa bruciamo le calzine, ci infiliamo le calzette di seta. Insomma, siamo tufforosi brevettati. Andiamoci lì, che ci aspettano. Buon so golfo. Buon so